Dopo molta attesa finalmente il rapporto Draghi è arrivato e io a mia volta sono arrivato a Bruxelles nel giorno in cui Mario Draghi lo ha presentato, questo rapporto sulla competitività che gli era stato commissionato dalla presidente von der Leyen alcuni mesi fa, a cui ha lavorato in questi mesi, ha prodotto un elaborato di 400 pagine, quindi piuttosto ponderoso, la prima parte di 65 contiene delle indicazioni generali sul tema della competitività europea e poi ci sono invece tutta la parte successiva 328 pagine suddivisa in settori, in 10 capitoli verticali. Non ho avuto il tempo di leggerlo nel dettaglio, confesso, ma conosciamo gli elementi centrali che sono stati riportati da Draghi questa mattina in conferenza stampa e che vanno nella direzione di suggerire scelte molto nette, molto radicali per consentire all'Europa di riguadagnare il terreno che ha perso, perché questo è il dato di partenza. Il continente europeo sta perdendo terreno rispetto agli Stati Uniti e alla Cina, moltissimo è dovuto alla limitatezza degli investimenti pubblici e privati. Per farvi capire, solo sul capitolo dell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti quest'anno si è investito 50 volte di più di quanto si è investito in Europa e tutti sappiamo che quella tecnologia farà la differenza in futuro. Vale per l'intelligenza artificiale, vale per molte altre tecnologie abilitanti, ma da questa questione dipende la possibilità che le nostre imprese mantengano le loro posizioni sui mercati internazionali, che si mantengono i posti di lavoro e che si mantenga di conseguenza il livello di benessere che è stato garantito in questi anni ai cittadini europei, i quali godono del più generoso sistema di welfare che ci sia al mondo, quindi sistemi di protezione sociale che però alle spalle devono avere un sistema produttivo capace di essere competitivo. Quindi Mario Draghi mette l'accento su questi aspetti e dice agli europei, alle forze politiche del Parlamento europeo, alla Commissione e al Consiglio, datevi una mossa, è il momento di superare gli egoismi, di superare le frammentazioni, perché nessun paese da solo è in grado di affrontare le grandi sfide di oggi, è il momento di fare degli investimenti comuni, importanti come quello che avete fatto dopo il Covid, perché il PNRR italiano, come sapete, è il figlio di una scelta europea, il Recovery Fund che si decise di fare contraendo un importante debito comune all'indomani della pandemia per favorire la ripartenza dell'economia europea. Bene, quello che si è fatto non può essere un unatantum, non può essere un'eccezione, deve diventare la regola, ma perché sia la regola ovviamente deve esserci anche una capacità di raccolta di risorse dell'Unione europea che sostenga questo debito nel tempo lungo. Sono suggerimenti che sollecitano la politica a prendere delle decisioni e la domanda è se ci sono le condizioni, perché il rapporto Draghi non resti lettera morta, ovviamente se lo chiedete a me, se lo chiedete alla mia parte politica noi diciamo certamente sì, bisogna andare avanti, è esattamente la direzione di cui abbiamo parlato tanto anche in campagna elettorale, sono idee abbastanza familiari a chi mi ha seguito nei mesi scorsi perché di queste cose ho parlato. Il problema è capire se c'è una maggioranza politica in Europa che va effettivamente in quella direzione. Io sostengo che da una parte forse no, perché sappiamo che in tanti paesi le destre che sono più scettiche sulla integrazione europea hanno guadagnato terreno e questo potrebbe essere un ostacolo, ma dall'altra parte sapete che alcuni paesi storicamente leader nella costruzione europea, la Francia e la Germania in particolare, sono in una fase di forte difficoltà e non è scontato, non è detto che questa difficoltà dei due paesi che hanno rappresentato il motore dell'Europa non sia invece la spinta perché anche loro guardino con più fiducia alla condivisione di scelte con gli altri partner europei, cioè a investimenti fatti insieme. Lo vedremo nei prossimi mesi, ovviamente è materia di impegno politico per me e per i miei colleghi, in ogni caso Mario Draghi ha parlato e ha parlato con grande chiarezza.